www.mesmerism.info 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 Grazie, grazie. Seppi giù la notte, può restare. Ma che devo fare? Cos'è capitato a neve? Eh. Morti non mangiare, come si dice? Meglio strutturare le catene, non strutturare le catene. Se ne esce, se ne esce, se ne esce. Ora tu che fai, ne esce. Escerà presto, sicuramente. Hai sentito? Vorrei più proprietario della macchina. E dice, cavolo, restare la pazzatella in concio, panotte. Vabbè. Avetevi una 300 euro. Avetevi una. Faccio bene, non ti preoccupare. È più tardi in Mancugge, ma no, ti lo vengono per vedere. Va bene. Va bene. Buonasera, grazie. Grazie. Mi chiedere un augurone per farlo. Grazie, grazie. E noi in più tardi. Grazie. 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 Grazie.